La crisi della pesca, un fatto purtroppo incontrovertibile di cui risentono comunità come quella di Chioggia, nate e cresciute non solo sul mare, ma proprio anche sulla vita e sul reddito determinato dalla ricchezza del pesce pescato. Affrontare i problemi prima che sia davvero troppo tardi è indispensabile e lo si è fatto con la convocazione degli stati generali del comparto. È un'esigenza dettata dalla situazione economica, secondo dalla nuova programmazione 2014-2020, che è una programmazione che dà degli indirizzi molto precisi sullo sviluppo del settore e poi perché sono convinto che la visione strategica deve essere costruita non solamente attraverso la visione della regione, ma anche attraverso gli operatori e anche il mondo accademico ed è per questo che siamo qui. Il convegno è stato un'occasione importante per analizzare le problematiche e cercare di fornire i mezzi necessari atti a bagliare le soluzioni utili al comparto ittico regionale. Attraverso l'osservatorio e la sezione della ricerca economica ha fornito le basi informative per poter ragionare sulle prospettive e offrire quindi ai politici gli elementi di base per fare poi la programmazione e definire le politiche per la pesca. A pesare per chi va in mare, oltre al costo del lavoro c'è quello del carburante, tanto che la flotta veneta in dieci anni si è dimezzata e le imprese dedicate a questa attività sono diminuite nello stesso periodo di circa il 25%. Il settore sta attraversando indubbiamente un momento difficile, abbiamo la flotta decisamente in calo, un calo preoccupante, stiamo perdendo anche secondo me quote di mercato all'interno dei nostri principali mercati ittici, mi riferisco prevalentemente a Chioggia e a Venezia.